Buongiorno! Buongiorno! Allora, facciamo i complimenti al nostro bel maestro che è già secondo in classifica Su due film tra l'altro, incredibile No, il primo è un corso americano Il primo dimentichiamocelo, però siamo lì, mancano solamente 630.000 euro Non ci saranno mai! E' il film più atteso della storia Ragazzi, vi dico una cosa, vi dico una cosa Questo film andrà benissimo perché è matematico Intanto hanno 300 sale, quindi non può andare male L'hanno messo ovunque C'ha manifesti a tutte le parti Io ieri ho fatto tutti i miei sondaggi con le mie spie, eccetera E praticamente questo film hanno iniziato a promuoverlo a luglio Quindi è un film che non può andare male Il film dello zoo che è uscito il 31 marzo Hanno iniziato a promuoverlo il 29 Ma che dove cazzo vuoi andare? Sì, se lo ho iniziato io, se ti ricordi, a promuoverlo E' vero, è vero, è vero Noi dai, facevamo tanta promozione sui social, sulle pagine Facebook Non è servito un cazzo Infatti non è servito un cazzo Doveva essere in 170 sale, giusto? Era in 68, dove cazzo vuoi andare? Con le locandine che erano grosse come la foto sul cimitero Tra l'altro lo schermo del cinema era nero, stranamente le immagini si vedevano un po' così E' successo anche quello, è successo anche quello Ah, sei razzista allora, eh! Che se proietti sul nero... Sei un razzista, ce l'hai con me! Stai sputando sui negri, eh, bastardo! Ce l'hai con me perché sono nero! Bravo! Non sei nero! No, no, sei scuro, sì Pallido! Sei un meridionale brutto Cioè tu sei proprio il tipico meridionale Lui è un afroamericano albino Allora io vorrei fare... Aspetta, 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 non ti offendere Paolo Perché io ci pensavo ieri Tu secondo me sei un uomo molto scopabile Non ti offendere se ti hai dato del terrone grasso di merda No, 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 no Lui è il classico, è il classico brutto Che poi a furia di guardarlo diventa bello Ciao, sono Giada Non sei Giada? Ciao Sono la ragazza... Sono Sandra Sono l'unica ragazza del programma No, c'è la chicca Cosa? Sandra Sandra mi chiamo Sandra Che schifo Come che schifo? Chica la vagina che schifo A un taglio Mi chiamo Sandra Ciao Cosa vorresti fare, scusa? Non lo so, volevo strofinare la mia vagina contro la tua No, no, non hai capito Io sono l'unica ragazza del programma No, no Per cortesia Scusate, avete un'idea di come uscire da questa cosa o possiamo andare avanti? Sì, assolutamente Se fossimo nella stessa stanza, sì C'è una cosa che fa ancora più schifo, ragazzi Questa donna ormai è arrivata proprio, credo, alla fine, alla fruttissima E questa telefonata lo prova Allora, l'abbiamo intitolata la puntata Santina e i 30 argomenti Contemporaneamente Cioè questa donna è riuscita a parlare di 30 robe tutte insieme Quindi attenzione amici Ci colleghiamo con la nonna dello zoo Mission Santina Numero 13